A conto l'arancio senza far chiasso, si è allungato il tasso, non serve vincolare così puoi sempre fare, poiché tasso vuoi, senza compromessi, hai gli interessi, senza fare un tasso, apri conto l'arancio e hai 3% per 12 mesi, senza vincolare i risparmi e senza fare un tasso, scegli il RG. Grazie.